Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Licia Coll ha rivelato di aver fatto una scoperta sorprendente dopo la morte del padre. Ha una sorella di nome Gioia, frutto di una relazione giovanile del genitore. In un'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha parlato apertamente di questa scoperta, sottolineando che oggi considera Gioia come un'amica. La storia di Licia Coll e della sua nuova parentela è emersa dopo la scomparsa del padre Giancarlo nel 2021. La conduttrice ha spiegato che suo padre aveva appreso dell'esistenza di Gioia quando questa era già adulta, nata prima che lui incontrasse sua madre. L'incontro tra le due sorelle è avvenuto tre anni fa, dopo la morte di Giancarlo. Licia Coll ha descritto il suo rapporto con la sorella come un legame tra amiche, evidenziando la maturità con cui hanno affrontato la scoperta della parentela. Nonostante la separazione dei genitori quando era giovane, la conduttrice ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con entrambi, il che potrebbe aver contribuito alla sua reazione positiva alla notizia di avere una sorella. La storia di Licia Coll e Gioia dimostra come i legami familiari possano essere sorprendenti e portare a nuove scoperte anche in età adulta. La conduttrice ha affrontato questa rivelazione con serenità e apertura, accogliendo la sua nuova parentela con i legami familiari. Grazie.